Ciao a tutti amici di Youtube da Sandro. Primo agosto 2022, finalmente sono tornato a fare qualche bellissimo video che mi mancava da tantissimo tempo, da questa bellissima ripresa, da questo bellissimo lago, lago di Poschiavo. Siamo in Svizzera, Cantone dei Grigioni, guardate sullo sfondo, sta transitando il mio treno della ferrovia retica, proveniente da St. Moritz e diretto a Tirano, una mia linea di quelle preferite che mi manca da molti anni. Guardate che splendore questo bellissimo lago, con questa bellissima acqua di un colore azzurro, che determina una bellissima energia in me. Voglio salutare il mio amico Aldo, che mi seguiva sempre su questi Youtube, e questo è un video che lo dedico con grandissimo piacere a te, amico Aldo, che fai sempre i tuoi bellissimi video. Guarda che posto stupendo che sono oggi primo agosto 2022, si sta benissimo, abbiamo una temperatura freschissima di 27 gradi, lontano dall'afa delle grandi città e anche dalla pianura della Valtellina Bassa, che in certe zone non è certo molto fresco in questi periodi, certo meglio che in città, ma comunque qui si sta veramente bene. Guarda in fondo, si domina questo bellissimo panorama verso il Passo del Pernina, purtroppo manca la neve, dovuto alle scarse precipitazioni, ma il paesaggio è sempre bellissimo. Amico Aldo, un grandissimo saluto, e questo è un posto che ti consiglio di fare, perché è un posto stupendo. Qui abbiamo il sentiero, che è lungo 8 chilometri, una camminata di circa 2 ore, che spero di fare in una giornata, magari senza impegni. Vi saluto da questo Youtube di Sandro, ciao e al prossimo video!